buongiorno allora in questo video cerchiamo di concentrarci sul gli aspetti pratici relativi al corso quindi l'organizzazione pratica del corso che erogheremo quest'anno pensato di che queste parti qua che sono un pochino più noiose un pochino più formali forse più utile diciamo così farle vedere con un video offline piuttosto che non dover spendere il tempo in aula dove possiamo usarlo invece per fare cose più interessanti allora diciamo che la maggior parte delle informazioni anzi a quali totalità le informazioni che ci servono lo trovate la possiamo trovare sul sito del corso questo è l'indirizzo breve ma è già l'ho già anche comunicato via mail attraverso un avviso attraverso il canale telegram del corso da questa pagina trovo riuscite a trovare il link per raggiungere tutte le informazioni tutte le risorse tutti i documenti tutte le slide eccetera del corso stesso quindi questo è il nostro punto di riferimento punto di partenza rispetto a tutto il materiale che avremo durante durante il semestre durante il semestre saremo insieme appunto 80 ore 80 ore divise nel seguente modo ci saranno circa 40 ore di lezione e eserziazione in aula relative alla programmazione e al linguaggio python ci saranno una decina di ore invece in cui faremo gli argomenti di teoria che fanno anche parte dell'esame alcune parti sono sulla teoria relativa alla programmazione altre invece sulla teoria più relativa al funzionamento del calcolatore degli ore di esercizi parecchi esercizi in aula e poi ci sono i cosiddetti laboratori quindi ore in cui andrete voi in laboratorio con un calcolatore a provare a ragionare e a risolvere gli esercizi che vi proponiamo quest'ora di laboratorio per potersi gestite no in modo più corretto riuscire a seguirvi meglio anziché se tutti insieme la classe da 250 sarete divisi in tre squadre diverse adesso poi ci arriviamo argomenti trattati dal corso sono in buona parte presi da questo libro concetti di informatica fondamenti di python sulla pagina del corso trovate la citazione completa col codice di sbn eccetera noi seguiamo quella che è la seconda edizione in lingua italiana che corrisponde grosso modo a quella che è la terza edizione in lingua inglese quindi questo qua è lo stesso libro la traduzione l'uno dell'altro chiaramente uno è quello originale in inglese l'altro invece quello tradotto in italiano se diciamo così se vi trovate bene no a seguire studiare su un libro questo è il libro che noi stiamo seguendo molto del materiale dell'informazione che diciamo o che diciamo vi comunichiamo sono già nelle slide sono nel dispensa li trovate su internet su centinaia di siti e di corsi vari questo è un riferimento lascerei a voi diciamo così la scelta se dotarvi del libro perché magari appunto è un metodo di studio non che vi trova bene e noi seguiamo abbastanza l'ordine dei capitoli e spesso prendiamo gli esercizi proprio da questo testo per darvi modo di avere anche un supporto capire dove siamo arrivati col programma e poter eventualmente rivedere un certo argomento così come è scritto sul libro a differenza di come magari l'abbiamo spiegato in aula dicendo le stesse cose con parole diverse magari ci si aiuta anche la comprensione qui ci sono le informazioni dettagliate sulla versione italiana sulla versione inglese del libro ma non stiamo a leggere insieme le trovate nelle slide se vi interessano poi ovviamente python come dicevamo è un linguaggio molto diffuso molto noto e quindi trovate moltissime altre risorse qui ho provato a elencare alcuni libri di testo che sono recenti e tradotti in italiano questi due editori universitari abbastanza noti e affidabili quindi se qualcuno avesse in giro conoscesse o trovasse dei libri di questo genere vanno bene lo stesso chiaramente non seguono esattamente lo stesso programma che abbiamo nel corso ma chiaramente le conoscenze sono le stesse quindi vanno benissimo e poi non dimentichiamoci che ci sono moltissimi siti tra i dai siti ufficiali di python dove trovate troviamo la documentazione ufficiale della libreria standard del linguaggio a questo sito real python che a me piace parecchio perché ha tanti piccoli tutorial su vari singoli argomenti quindi alcuni argomenti diciamo così sono spiegati bene lì forse in modo anche più chiaro più comunicativo rispetto alla documentazione ufficiale che a volte è un pochino asciutta tendesse un pochino arriva e poi ci sono quest'altro testo qua ad esempio l'ho riportato anche se non in italiano perché è disponibile gratuitamente quindi se uno va su questo sito può scaricarsi questo libro e consultarlo online quindi ci sono veramente l'imbarazzo della scelta in termini di risorse molte gratuite alcune chiaramente sono a pagamento e poi ci sono useremo degli strumenti abbiamo già visto che lo strumento principale che utilizzeremo sarà appunto il pi charm che vi ho chiesto di installare anche qui di questo c'è una versione community una versione educational che è gratuita e poi in realtà c'è una versione professional che sarebbe a pagamento ma noi come docenti studenti universitari se ci registriamo sul sito possiamo avere comunque la versione professional anche gratuitamente esiste replete.com come abbiamo già visto che può essere usata diciamo così per scrivere i programmini online senza dover installare nulla sul computer e poi useremo spesso questo programma in questo sito che si chiama python tutor lo vedremo soprattutto nelle prime lezioni perché ci permette proprio di vedere cosa succede dentro il programma no è un ambiente non di sviluppo ma di analisi che ci permette appunto di capire le varie variabili che valori hanno come evolvono eccetera ci aiuterà molto a capire alcuni concetti soprattutto sulle strutture dati quindi lo useremo come strumento didattico chiaramente non come strumento di programmazione per quanto riguarda la registrazione di pi charm e del interprete python facciamo riferimento a quei documenti che vi abbiamo condiviso c'è una versione windows e una versione mac con cui spero che l'abbiate già fatto se no vi invito a seguire le istruzioni in modo da poter installare sui vostri computer tutto ciò che vi serve con i due programmi che servono quindi il python e il pi charm pi charm che appunto ha l'aspetto dell'ambiente di sviluppo che impareremo a usare e useremo anche durante l'esame quindi l'esame sarà sarà svolto usando l'ambiente di pi charm quindi conviene effettivamente imparare utilizzarlo anche in modo anche in modo abbastanza snello e flessibile ciò nonostante appunto anche repli.com soprattutto magari se uno in aula su anche essendo un applicativo web anche se uno avesse un tablet per quanto può essere scomodo scrivere un programma su un tablet ma si può si può accedere online anche al sito di repli.com e ovviamente il programma funzionerà esattamente nello stesso modo nei due casi perché ovviamente entrambi implementano supporto nel linguaggio python. Per scendere più sul pratico noi abbiamo questo orario settimanale che avete già visto sull'app o sul sito del Politecnico a parte del primo lunedì che c'è stato mangiato dall'evento elettorale noi avremo lezione a lunedì pomeriggio e al martedì nelle ore diciamo così centrali della giornata la famosa lezione dieta in cui si salta il pranzo questo per quanto riguarda le lezioni in aula che verranno usate come lezione o esercitazione io non faccio distinzione formale tra quello che è una lezione e un'esercitazione buona parte delle lezioni per noi saranno esercizi facciamo esercizi facciamo programmi insieme per capire i concetti che ci stanno dietro e poi abbiamo le tre squadre di laboratorio che sono la squadra 1 e la squadra 2 poste al mercoledì e questo mercoledì saranno mixate con le altre squadre di esercitazione della delle altre materie che saranno in parallelo queste quindi quando chi fa squadra 1 di fisica di chimica fa squadra 2 di informatica e viceversa e poi c'è una terza squadra a differenza degli altri corsi noi siamo divisi in tre squadre non due per potervi seguire meglio proprio perché dovete lavorare voi al calcolatore e quindi non abbiamo troppi calcolatori disponibili e riusciamo ad avere un rapporto diciamo così assistenti studenti migliore e quindi c'è in tre squadre la squadra 3 è una squadra che sarà messa a metà dell'alfabeto e non si sovrappone né con la squadra 1 né con la squadra 2 di matematica e di chimica e questi chi afferisce la squadra 3 verrà al laboratorio invece al martedì pomeriggio ok all'inizio del corso cercheremo di essere abbastanza rigidi non permettere cambi di squadra poi man mano quando andiamo avanti quando purtroppo qualcuno smette di seguire tende a esserci più posto disponibile nei laboratori allora diventano anche poi possibili alcuni scambi fate attenzione che la squadra 3 andrà al laboratorio nell'aib 1 che è sempre qua nella sede centrale qui nel secondo piano molto vicino all'aula 4 dove c'è la lezione in mentre invece al mercoledì si andrà in laboratorio in un laboratorio che si chiama un laboratorio si chiama 2b e si trova in via boggio quindi si entra dalla parte opposta del politecnico dove c'è nello stesso fabbricato dove ci sono le aule m poi magari se volete guardiamo insieme una cartina per essere sicuri di non perderci le prime volte laboratori sono di gran lunga la parte più importante del corso le lezioni chiaramente vengono fatte in aula cerco di farle in modo più più interattivo possibile ma comunque siete in tanti quindi non è sempre possibile interagire approfonditamente nel laboratorio siete voi vi mettete in gioco provate risolvere gli esercizi non ci riuscirete vi arrabbierete chiederete aiuto ci riproverete e non riuscirete di nuovo ma poi alla fine ce la farete ecco questo processo qua è il processo importante su cui dovete investire se mancate una lezione non importa ma cercate di non mandare ve la guardate online intanto registriamo tutto ma cercate di non mancare i laboratori questo è assolutamente no perché se per caso lo mancate cercate di farlo comunque per conto vostro ma cercate di farli veramente i laboratori inizieranno la seconda settimana del corso noi pubblichiamo il testo magari il mio consiglio il testo cercheremo di pubblicare il venerdì precedente il mio consiglio è di cominciare a guardarlo magari durante il weekend tanto adesso comincia a far freddo è brutto cominciate a guardare il testo così arriverete al martedì o mercoledì c'è l'orario del laboratorio quando praticamente avrete già qualche idea ecco lì avrete a questo punto la possibilità di iniziare a sviluppare il programma e chiedere aiuto fare anche domande più intelligenti perché magari avete già guardato il testo prima e non guardatelo solamente nel primo momento nel momento in cui arrivate in laboratorio il software python e pycharm installatelo sul vostro computer ma in laboratorio userete i computer del laboratorio dove c'è già tutto installato io vi ho chiesto di installare i programmi sul vostro computer in modo che possiate fare esercizi anche a casa vostra la suddivisione delle squadre ve la comunicheremo più avanti perché ci sono ancora delle iscrizioni in ballo e quindi devo aspettare che i numeri siano i numeri iscritti siano diciamo ben stabiliti prima di poter fare tre gruppi della stessa dimensione quindi per ora ho messo queste xxx che poi diciamo così andremo a dettagliare alla alla fine della settimana o all'inizio della settimana successiva in modo che voi sappiate in quale turno dovete venire però al momento ci sono ancora degli scambi di studenti delle nuove iscrizioni che non per cui i numeri non sono ancora sufficientemente stabili ma lo comunicheremo prima chiaramente della prossima settimana ecco il ciclo settimana dei laboratori grossomodo si dovrebbe svolgere in questo modo noi al venerdì della settimana precedente pubblichiamo il testo del laboratorio contenente gli esercizi da svolgere appunto durante il laboratorio qui di mezzo c'è il weekend e quando arriverà qui sbagliato a scrivere martedì o mercoledì ci sarà il laboratorio dentro quale avrete tempo di poter lavorare individualmente per poter risolvere gli esercizi proposti. Dedicheremo magari in dieci minuti all'inizio a fare un po' di riflessione sui concetti quindi il testo conterrà anche delle domande non dico domande tra bocchetto ma domande di riflessione cui magari velocemente con l'assistente del laboratorio faremo un piccolo ordinamento nei primi dieci minuti dopodiché vi lasciamo lavorare noi siamo a disposizione girando tra i banchi essenzialmente tra le postazioni a guardare cosa fate chiedeteci proviamo a riflettere insieme sui vari esercizi che veniamo proposti e vi abbiamo proposto e poi alla fine gli ultimi 20 minuti circa tranne chiaramente nella prima laboratorio verranno dedicati a risolvere un esercizio di quelli della settimana precedente quindi cosa succede che ogni settimana vi proponiamo magari 5 6 esercizi 7 10 la prima saranno 15 ma sono piccolissimi e la settimana dopo dedicheremo il tempo a risolvere quello che vi è risultato un pochino più difficile più ostico in cui avete bisogno di un pochino più di aiuto allora ogni settimana cosa succede che dopo il laboratorio noi pubblicheremo un sondaggio sempre sul canale telegram chiedendovi qual è l'esercizio che vorreste risolvere insieme la settimana prossima allora degli esercizi di questa settimana voi scegliete quello che vi ha dato più difficoltà sulla base degli esiti di questo sondaggio questo qui se lo vado a riprendere qua degli esiti del sondaggio decideremo quale esercizio fare in quei 20 minuti così almeno insieme risolviamo l'esercizio tra lo vedete più difficile quello che vi ha dato più problemi o quello che vi ha dato più cartacapi più dubbi quindi cerchiamo di mantenere questo ciclo settimanale il venerdì c'è il testo la settimana successiva martedì mercoledì c'è il laboratorio subito dopo il laboratorio pubblichiamo il sondaggio in cui ci possiate dire guarda io ho provato a fare quell'esercizio e non ci sono riuscito e allora la settimana dopo lo risolviamo insieme ma nello stesso tempo la settimana dopo pubblicheremo il testo per la settimana ancora successiva quindi un po' un ritmo un po' così per aiutarci a mantenere il ritmo a tenervi occupati e anche farvi pensare un pochino di più all'informatica e non solo a quelle cose noiosissime di matematica e poi in futuro in un futuro un pochino più lontano qui ho detto almeno dopo otto giorni vi pubblichiamo poi le soluzioni degli esercizi di tutti gli esercizi cioè uno lo risolviamo insieme qui ma anche gli altri poi anche degli altri esercizi pubblicheremo la soluzione allora io sono sempre molto combattuto quando si parla di soluzione degli esercizi perché un esercizio di programmazione qualunque esercizio di programmazione si può giovere in almeno mille modi diversi allora che io vi dia una soluzione che è quella a cui sono arrivato io non vi aiuta più di tanto perché poi magari voi vi sareste orientati in una soluzione diversa che sarebbe altrettanto giusta quindi ho sempre un po' il timore che se vedete una soluzione cerchiate poi di arrivare a quella soluzione perché per qualche motivo dovrebbe essere più giusta di quella che avevo in mente io ecco no ecco questo è un errore che vorrei che non faceste così come vorrei che non vi sedeste diciamo ad aspettare le soluzioni pensando che mi studio poi le soluzioni le soluzioni non serve quasi a nulla in termini di apprendimento l'apprendimento dell'informatica si fa provando su se stessi in prima persona a risolvere vedendo la soluzione fatta da un altro non serve quasi a nulla se non come facciamo in laboratorio magari fatta insieme allora ti faccio vedere come vedrete che faremo molto spesso in aula ragioniamo insieme e la costruiamo insieme allora condividiamo un ragionamento non ti faccio vedere la soluzione semplicemente studiarsi l'infinito dei leopardi non ci mette studiarlo anche benissimo non ci mette in grado di riuscire a scrivere noi un poema di tale portata sicuramente invece se se pro mi alleno allora riesco ad accrescere le mie competenze le mie capacità quindi io le soluzioni ve le pubblico perché altrimenti mi massacrate di domande e di richieste a possiamo avere la soluzione possiamo avere la soluzione va bene ve la pubblico ve la pubblico però con un certo ritardo almeno due settimane dopo in modo che voi abbiate avuto l'incentivo e il tempo di provare davvero risolvere se io vi pubblicassi la soluzione il giorno dopo so che la metà di voi l'esercizio non prova neanche a farlo perché aspetto di vedere la soluzione ecco io vorrei che evitassimo questa dinamica per questo la soluzione ve le pubblico ve le metto a disposizione con un po volutamente con un certo ritardo mentre invece appunto spenderemo del tempo sia in laboratorio che talvolta ops mi sono perso la pagina che talvolta anche in aula proprio a svolgere gli esercizi insieme quindi magari ci sono alcuni esercizi che vi abbiamo proposto in laboratorio che riprenderemo anche in aula a lezione proprio perché magari c'è qualcosa da imparare in quello poi l'altra informazione diciamo così pratica oltre a quella del funzionamento laboratorio è quella sul canale telegram che vi ho già invitati visto che buona parte di voi anche se non tutti si sono già uniti a questo canale ecco io vorrei usare telegram per tutte le comunicazioni quindi evitare di avere delle mail che vanno avanti indietro poi si perdono poi si accumulano non si riesce a rispondere eccetera eccetera tutte le volte che abbiamo un avviso da parte nostra un'informazione anziché mandarvi una mail che appunto si perde insieme alle altre 200 che vi manda il Politecnico scriviamo su telegram se voi avete una domanda avete una curiosità avete una difficoltà usiamo questo canale tra di noi diciamo così l'esperienza degli altri corsi ci dice che la cosa funziona abbastanza noi sicuramente controlleremo il canale risponderemo sempre ma potete siete liberi anche di parlare di usarlo per parlarvi rispondervi tra di voi ecco questo anzi sarebbe molto interessante che cominciassimo a costruire un minimo di comunità ecco intorno anche ai dubbi alle domande agli esercizi che faremo che faremo insieme ok quindi per favore cerchiamo di usare il gruppo cerchiamo di non usare messaggi privati perché poi magari il 90% delle volte la risposta che do a te servirebbe anche agli altri quindi tanto vale farlo in pubblico qui non c'è nulla di privato no essenzialmente stiamo insieme cercando di imparare no a certe certe tecnologie certi certi linguaggi quindi non stiamo parlando di se ci fossero qualche rarissima no a condizione personale mi sarebbe veramente personale allora mi mandate una mail tranquillamente ma qui parliamo facciamo così dei contenuti didattici che ci scambiamo sul canale ok e soprattutto tenetelo d'occhio perché gli avvisi magari anche l'ultimo momento c'è qualche cambio di radio qualche qualsiasi altra cosa li erogheremo principalmente attraverso il canale telegram che tanto ce l'avete già tutti installato sul cellulare quindi non dovrebbe essere una grosse difficoltà ecco spendiamo ancora qualche parola sull'esame che è sempre un argomento interessante adesso non vi dirà poco ma vi riguarderete sicuramente questo video all'ultima settimana del corso per capire bene come funziona ma ovviamente ne parleremo ancora in aula l'esame composto di due parti che si svolgono tutte nello stesso momento l'esame dura 90 minuti un'ora e mezza in quest'ora e mezza dovete rispondere a tre domande di teoria e sviluppare un programma in python le tre domande di teoria valgono due punti ciascuna quindi 2 4 6 6 punti di teoria e 26 punti per la parte di programmazione vedete che ovviamente la somma è un po più una più abbondante rispetto al 30 per riuscire diciamo così a compensare eventuali piccole difficoltà ed arrivare al 30 lode per chi effettivamente è ben preparato l'esercito di programmazione vi dicevo lo farete con pi charm noi il pi charm lo faremo usare in un ambiente protetto ovviamente che non vi permette di fare copia in colla condividere cose eccetera di copiare tra così in gergo e quindi sarà all'interno del sistema di quiz si aprirà una finestra che di fatto è una macchina virtuale su un computer in cloud su cui sta girando solo pi charm e quindi però di fatto una volta che avete aperto questa finestra lavorerete esattamente come lavorate sul vostro computer o sui computer del laboratorio che avrete usato per tutto l'anno sull'esercito di programmazione dovete consegnare il programma il programma che scriverete poi la correzione la facciamo andando sia a far funzionare il programma sia anche a leggere che cosa avete scritto quindi non è solamente una correzione del tipo funziona non funziona sarebbe troppo diciamo così penalizzante nei vostri confronti perché magari in quel momento c'è un dettaglio che vi sfugge o che non siete riusciti a fare noi andiamo sicuramente a verificare se funziona ma ancora di più a verificare cosa avete scritto capire che ragionamento che scelte avete fatto che ragionamento avete fatto nello scrivere quel codice ok quindi la valutazione non è solamente di funzionamento ma di merito nel merito di che cosa avete scritto se ci sono degli errori di sintasi degli errori di progettazione della scelta delle strutture dati l'efficienza eccetera eccetera queste per ora sono ancora concetti un po' astratti detti alla prima lezione ma ovviamente man mano che andremo avanti capiremo un po' meglio di che cosa si tratta alla fine vi diamo questo punteggio che è la somma della parte di teoria e la parte di programmazione le domande teoria sono tre domande come dicevo la prima è sulla codifica numerica sulla armetica del calcolatore la seconda sull'architettura del calcolatore e la terza è sul linguaggio python le parti teoriche che sono gli argomenti che tratteremo durante durante le lezioni teoriche del corso in ogni caso questo ambiente in cui si svolge il programma è un ambiente semplice da utilizzare ma nelle ultime una o due settimane del corso il laboratorio lo svolgeremo su quell'ambiente lì in modo da poter già provare prima come funzionerà l'esame quindi in questo modo abbiamo modo anche di abituarci allo strumento con cui l'esame verrà svolto verrà condotto commento se posso permettermi abbiamo detto abbiamo parlato delle regole dell'esame parliamo anche di preparazione per l'esame per passare bene l'esame non serve aver letto 60 volte il libro non serve aver studiato memoria le soluzioni serve mettersi in gioco serve mettersi in gioco dal punto di vista logico per cui molti degli esercizi sono la difficoltà non è il linguaggio python la difficoltà è il ragionamento che io devo fare per capire come impostare la soluzione del problema il cosiddetto problem solving questa è la parte che ad alcuni di voi risulta più naturale ad alcuni risulta più ostica perché dipende un pochino da quelli che sono i nostri schemi mentali che siano più o meno adatti no ci può apprendere l'importante è non rimanere fissi sui propri schemi mentali se si accorge che non sono utili non sono funzionano bene in questo caso bisogna fare un lavoro di introspezione di capire come ragioniamo per arrivare una soluzione una volta che ho capito come ragiona posso insegnarlo a qualcun altro o in particolare posso insegnarlo a un calcolatore questa capacità si allena solamente facendo esercizi quindi esercizi le leggete le vedete le prime settimane vi sembrano stupidi ma se non sto a farlo è stupidissimo questo qua lo capisco no il mio consiglio è fatelo se vi proponiamo esercizi per dare un po come quando uno va in palestra gli verrebbe da saltare la parte iniziale di riscaldamento eccetera no perché tanto no in realtà serve anche quella perché è la base su cui vai a costruire il resto quindi anche gli esercizi semplici provate a farli li troverete in fretta bene però vi daranno farete farete un piccolo pezzo di ragionamento che vi servirà poi più avanti dove con lo stesso piccolo pezzo di ragionamento andrà inserito in un ambito più ampio ma a questo punto vi verrà naturale perché ormai l'avete già fatto nei gestiti più facili gestiti fateli cercate almeno in prima battuta di farli da soli quindi l'errore peggiore che potreste fare è quello di mettervi insieme a un compagno e una compagna molti più molto più bravi di voi perché poi loro lavorano voi guardate e non capite il tubo perché non potete leggere il pensiero sul ragionamento che stanno facendo e cercate di applicarlo il ragionamento ce lo dobbiamo fare noi quindi se vi piace lavorare insieme in gruppo il mio consiglio è trovate un gruppo di persone che siano al vostro stesso livello se siete bravi mettetevi insieme dei bravi se siete scarsi mettetevi insieme degli scarsi con rispetto parlando chiaramente ma per capirci vi aiuta di più perché riuscite insieme a crescere insieme a capire quali sono le difficoltà avere quello che sa già tutte le risposte non ti aiuta un giorno dopo a riuscire a trovare la risposta da solo poi noi questo processo come dicevo in aula in laboratorio siamo lì apposta per aiutarvi non siamo lì per ricordarvi come si diceva una certa funzione a memoria non sarebbe a nulla ma siamo lì proprio per aiutarvi a sbloccarvi quando col vostro ragionamento arrivate in un vicolo cieco oppure prendete la direzione sbagliata può capitare perché vi manca ancora l'esperienza della messa in pratica delle cose che impariamo fateli da soli questi computer rifateli sembra scontato dirlo su pc il che vuol dire li scrivo su computer e provo a farli funzionare provo a verificarli l'altro errore che molti fanno è di scrivere tutto il programma magari due pagine di codice e poi alla fine provarlo ve ne accorgerete noi quando faremo esercizi insieme io scrivo 3 4 righe poi proviamo verifichiamo queste prima di andare avanti perché altrimenti se poi qualcosa non funziona che è la certezza perché quando uno scrive un programma mai funziona al primo colpo per legge se ho scritto troppo poi diventa difficile andare a capire dove c'è l'errore o quanti errori ci sono se faccio un pezzo per volta in modo incrementale in qualche modo o di ogni passettino magari faccio qualche piccolo errore ma lo correggo lì prima di andare avanti quindi sono tutte abitudini che che cerco mi raccomando in certo senso di provare a seguire e sulle quali insisterò sicuramente molto durante il corso e poi se uno vuole divertirsi può inventarsi i suoi problemi delle varianti dei problemi attuali vedete che a volte basta cambiare una parola spostare una virgola che un programma che trova un problema diventa completamente diverso o meglio il problema è molto simile ma il metodo per risolverlo diventa completamente diverso e quindi non si può ragionare per analogia ma questo esercizio è simile a quell'altro ma in ogni esercizio mi devo mettere lì e scomporre il ragionamento per riuscire a proporre quale soluzione lo risolva al meglio questo sono un pochino delle macro consigli un po ad alto livello e cercheremo poi durante il corso di entrare più nel dettaglio e capire che cosa significano queste cose e capire su di voi quali possono essere gli strumenti per aiutarvi a studiare in modo di arrivare all'esame passarlo bene e andare oltre che il secondo e il terzo anno vi aspettano dove ci sono cose più interessanti sulle materie che avete scelto come dicevo noi siamo sempre disponibili semplici posizioni questi sono i riferimenti sia mio che di roberta via via mail ma come ci siamo detti il modo più rapido per incontrarci è ovviamente quello di scriverci sul canale telegram che abbiamo aperto appositamente per questo corso grazie e arrivederci alla prossima lezione grazie